Un altro prodotto per il fai da te, targato Ambrosol, di cui non potrai fare a meno. Il pulitore schiumoso Ambrosol, con la sua speciale formula d'azione schiumogena, pulisce in profondità le superfici in stoffa, delle tappezzerie e della moquette. Il consiglio è di agitare prima dell'uso, spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm, ripassare con un panno pulito e attendere l'asciugatura. Azione schiumogena super pulente! Non lascia residui! Asciuga rapidamente! Rilascia una profumazione gradevole! Ambrosol, il professionista della pulizia e dell'igiene, in una bomboletta spray!